300 persone tra volontari e forze dell'ordine, rappresentanti del mondo sportivo locale e delegazioni della giostra del Saracino. I mille volti di Arezzo dicono sì al Giro d'Italia quando manca ormai poco al passaggio della carovana rosa in occasione dell'ottava tappa della prestigiosa competizione ciclistica. Alla vigilia del grande evento sportivo la città è in fermento per il ritorno, 13 anni dopo, della più importante gara ciclistica italiana che offre ad Arezzo una vetrina internazionale. Soddisfatta l'amministrazione comunale per il lavoro organizzativo svolto sino a qui. La risposta è stata direi straordinaria e in particolare non soltanto da un punto di vista di organizzazione che ha visto impegnato il comune e anche la provincia ma anche e direi soprattutto per quanto riguarda le categorie economiche quindi la città viva che si è direi impegnata al massimo per sfruttare una vetrina che è mondiale almeno per un paio d'ore in questa giornata e che avrà la modalità di rappresentare Arezzo nel mondo insieme a tutte quelle che sono le eccellenze retine. Entusiasta anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli che per il passaggio del Giro d'Italia potrà contare sulla piena operatività della polizia municipale dopo la chiusura in settimana dell'annosa vertenza riguardante il contenzioso tra amministrazione comunale e vigili urbani. Rimango un po' con l'amaro in bocca perché oggi c'è lo sciopero e quindi circa metà dei vigili è voluta scendere in sciopero nonostante la risoluzione del tema dei festivi infrasettimanali risolto nel corso di questa settimana però così è. L'importante è che il giorno del giro ci siano tutti perché quello sarà veramente il momento clou di questa manifestazione. Per qualsiasi informazione in merito alla viabilità e al cambiamento della circolazione del traffico nelle zone interessate dalla manifestazione è attivo il numero 0575 37 75 69 della Polizia Municipale.